I vari Calenda, Salvini e sedicenti sindacati la smettano di fare i portavoce di ArcelorMittal. Prima vengono i tarantini. Lo scudo penale è solo una scusa, dietro il quale si nascondono i rischi di chi sta giocando con la salute e la vita dei cittadini e dei lavoratori. Il settore dell'acciaio è in crisi in tutta Europa, tra dazzi e concorrenza dei produttori extra-UE. I posti di lavoro a Taranto erano già a rischio, a prescindere dallo scudo, e solo un maxi-intervento pubblico avrebbe potuto salvare i conti dell'azienda. Basta fake news e basta farse. Se lo stabilimento può andare avanti, lo si dimostri rispettando le leggi, anche quelle del mercato, e senza spreco di denaro pubblico. E' quanto si legge in una nota della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo sul caso ex ILVA. Noi del Movimento 5 Stelle saremo in prima linea in questa battaglia, a Bruxelles come a Roma. Taranto può e deve essere uno dei territori protagonisti di questa fase storica, assicurano i 5 Stelle.